Caroline Smith furiosa sul web, avete rotto le pie, ecco cosè successo La giudice di Ballando con le stelle si mostra alterata su Instagram, ecco il motivo. . Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Caroline Smith, la popolare giudice di Ballando con le stelle che da qualche tempo sta combattendo contro un brutto male. . Alcuni giorni fa, attraverso un messaggio sui social, la 57enne britannica ha dato una bellissima notizia a tutti i suoi followers. . Dopo un ulteriore controllo nel reparto doncologia dellospedale Capitolino Sant'Andrea, i medici le hanno comunicato che il tumore si sta riducendo. A distanza di una settimana, la coreografa è tornata a scrivere su Instagram mostrando tutta la sua rabbia. . Per quale motivo? Nel prosieguo dellarticolo troverete tutte le informazioni del caso e il video sfogo dellex ballerina. . Lo sfogo social dellex ballerina britannica. . Nonostante la sofferenza della malattia, tutti i telespettatori sono abituati a vedere Caroline sempre sorridente e solare. Questa volta, però, la giudice di Ballando con le stelle ha mostrato tutta la sua disapprovazione attraverso un filmato postato sui social. . . A quanto pare, la Smith è stata aspramente criticata perché nelle ultime settimane non ha indossato la parrucca nello show di Rai 1 condotto da Millie Carlucci. . . Infatti, la coreografa nata a Glasgow ha preferito presentarsi calva per dare un segnale a tutte coloro che stanno combattendo contro un cancro. La sua iniziativa, però, non è stata apprezzata da tutti e la diretta interessata si è sfogata su Instagram. . Non mi vergogno, ha tonato Caroline ribadendo di essere molto arrabbiata con tutte coloro che le hanno chiesto di coprirsi la testa. . . Questa è una mia scelta, ha ribadito lex ballerina inglese. Lappello di Caroline a tutte le donne affette da un cancro. . Caroline, che alcune settimane fa ha accusato un malore durante la messa in onda di Ballando con le stelle, ha anche fatto un appello alle donne che sono state colpite da un tumore. . . . . . . . .